Quindi consiglia di bloccare gli investimenti? No. La mia squadra suggerisce di aspettare almeno fino alle elezioni locali o dopo la stagione delle piogge. Ma l'implementazione di un programma sarà possibile a un certo punto? Potreste scusarmi un secondo? Mi dispiace molto. Certo. Fielding! Dimmi. Sono su Zoom con sei persone e lui continua a piagnucolare. Tirai il bastone? D'accordo. Va a prenderlo. È lui che sceglie il bastone. Lo sceglie lui? Cambia ogni giorno. Cosa vuoi? Vuole che lo guardi mentre sceglie. Non si diverte se non lo guardi. Ehi. Ti sto guardando.